Sì, è stata una bella partita in un calidoscopio straordinario di emozioni. Pareggio alla fine, ma sia Perugia che Udinese avrebbero meritato di vincere. Padroni di casa, si può dire, traditi soltanto dalla inesperienza di alcuni giocatori, mentre l'Udinese ha confermato le sue doti, un gioco, un gran gioco, ormai memoria, che ha esaltato le doti di Dino Fava, grande goleador. E pensate che in estate nessuno lo voleva, prima che arrivasse ovviamente l'Udinese. Ma vediamo le immagini della partita. Perugia che parte subito forte alla ricerca di una vittoria che quest'anno tarda troppo ad arrivare, ma la mira di Grosso prima e di Obodo poi è troppo alta. Al ventesimo, respinta Udinese da calcio d'angolo e il destro di Fusani conferma la bravura di De Santis che mette in angolo. Ma l'Udinese non può subire troppo a lungo e al ventottesimo su palla di Jorgensen, Iaquinta tenta al volo, ma anche Kalac è molto bravo. Scende veloce l'Udinese, palla Jorgensen che vede Fava solo davanti a Kalac e la palla è in rete. Al trentaseiesimo, Perugia 0, Udinese 1. Possiamo rivedere, bravi i bianconeri, ma Fava troppo solo a un passo dalla porta da mettere dietro la lavagna i difensori del Perugia. Allora, subito dopo, punizione di Grosso e Di Loreto sbucca sul secondo palo e in sacca di testa riscattando il settore difensivo. Al quarantaduesimo, Perugia 1, Udinese 1. Con lo Spalletti che si mette le mani nei capelli, si fa ovviamente per dire. Rivediamo, ecco il guizzo di Di Loreto che brucia Sensini, giunto oggi alle 330 partite in A. Si riprende il gioco e Botroid conquista palla sulla tre quarti. Controllo è sinistro di potenza terrificante che travolge De Santis e termina in rete. Al quarantadquattresimo, Perugia 2, Udinese 1. Rivediamo di nuovo la prudezza di Botroid e suo gran sinistro. Con le immagini preparate da Mario Piergentili passiamo alla ripresa e subito prove di pareggio per i friulani. Maia Quinta di testa e il sinistro di Jankulowski esaltano Kalac. Manovra di Kastrowman. Palla Jorgensen a fondo e cross basso. Kalac non ci arriva e Fava riesce ad agganciare e mettere in rete. Al diciassettesimo, Perugia 2, Udinese 2. Possiamo rivedere la gran prudezza di Fava per il secondo gol. C'è un lancio di alleggerimento di Sensini. Palla che spiove in aria. Perugina dormita generale e Fava, ancora lui, sbuca da nulla. È in sacca di testa al trentaduesimo. Perugia 2, Udinese 3. Cosmi se la prende con i suoi e dà ragione perché, e possiamo rivedere, l'agitazione di Diamonten è veramente grave. E Fava va in gol. Ma il Perugia mostra comunque gli attributi giusti e al quarantaquattresimo si riporta in avanti. Obodo rimanda in aria. Sensini prolunga. Sbuca Margiotta che anticipa De Santis. e insacca il pallone del 3-3 finale. Possiamo rivedere con Margiotta in gioco al momento del lancio di Obodo. E l'abitro Cassarà, discreta la sua direzione, fischia subito dopo il jolly mancato da Montari. Solo davanti a Calac e tira alto. Linea allo studio.